Buonasera e benvenuti nella terza edizione del TG6, edizione che apriamo tornando a parlare del caso della balneabilità a Pescara e dopo le polemiche che si sono nuovamente reinnescate negli ultimi giorni per il nuovo divieto temporaneo di balneazione, il centrodestra torna all'attacco e chiede un consiglio comunale straordinario per dibattere dell'argomento. Si continua a parlare della situazione dell'Aca, dello sversamento di liquami nel fiume, si torna a parlare della balneabilità che è vietata a Pescara e allora in questo quadro la posizione dell'opposizione qual è? La posizione dell'opposizione è quella di aver richiesto subito un consiglio straordinario, urgente, proprio per discutere la questione e soprattutto per fare chiarezza su questa questione. Oramai stiamo parlando da mesi, mesi, mesi e mesi, da oltre un anno devo dire, della questione del mare inquinato e non solo noi ma i cittadini pescaresi sono oramai stanchi e esausti di questa situazione. Noi non ci interessa sapere se la responsabilità è dell'Aca, dell'Arta, del comune di Pescara. Noi vogliamo godere e usufruire della balneabilità e del mare di Pescara che è una risorsa non solo per noi ma per l'intera regione. In più c'è da dire veramente che le dichiarazioni del sindaco Alessandrini sono disarmanti, sono disarmanti proprio alla luce di quello che è successo l'anno scorso e di quello che è successo ieri o l'altro ieri. Per 20 minuti di sversamenti di liquami dal fiume nel mare nostro il sindaco senza attendere le analisi dell'Arta ha disposto il divieto assoluto di balneazione quando invece l'anno scorso per 17 o 18 ore di sversamenti di liquami non è stato fatto il divieto di balneazione, è stata data l'ordinanza del divieto di balneazione. Quindi è veramente allucinante la posizione del sindaco e devo dire anche che la posizione del sindaco è indifendibile considerato che 20 giorni fa in sede di approvazione del bilancio all'assemblea dell'ACA il sindaco ha votato per un rinvio sulle questioni attinenti al bilancio dove tra l'altro c'era anche il piano degli investimenti che l'ACA avrebbe dovuto fare. E restiamo in argomento perché è stato revocato dal sindaco di Pescara Alessandrini il divieto di balneazione imposto con apposita ordinanza lo scorso 6 di agosto in seguito al cortocircuito che ha danneggiato una pompa di sollevamento dell'ACA con successivo sversamento nel fiume. Il divieto di balneazione inizialmente era stato disposto per 48 ore e poi prorogato per un giorno. Tornano dunque balneabili i tratti di mare denominati zona antistante via Lemuzzi, zona antistante via Galilei e zona antistante Fosso-Vallelunga. La presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 28 luglio scorso ha stanziato complessivamente 118 milioni di euro circa 118 milioni di euro per gli eventi calamitosi che si sono verificati in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo a novembre e dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La notizia giunge dalla presidenza della regione Abruzzo. Nel dettaglio, con riferimento al 2013, sono stati concessi 24 milioni di euro per i privati e 21 milioni di euro per le attività produttive. Per il 2015, 49 milioni di euro per i privati e 23,5 milioni di euro per le attività produttive. I contributi, si spiega nella nota, saranno concessi previa istruttoria delle domande presentate e dentro i limiti fissati nell'ordinanza che definirà i criteri di assegnazione delle somme. La FIRST CISL si dice preoccupata per il destino del sistema bancario e creditizio in Abruzzo. Non si è ancora placata la tempesta Carichietti, un'avvertenza che ora è aperta sui tavoli nazionali. Le vicende negative delle maggiori banche abruzzesi hanno favorito la desertificazione creditizia dell'Abruzzo. Sono le parole con cui la CISL descrive la situazione del sistema bancario in Abruzzo, a seguito della bufera Tercas prima e banche truri e carichietti poi. La crisi dell'istituto di credito teatino, posto in risoluzione nel novembre del 2015, viene seguita con apprezzione dal sindacato preoccupato per il futuro occupazionale dell'azienda e per l'erogazione del credito alle imprese. L'avvertenza della Carichietti è oggetto di tavoli di confronto nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'unità di risoluzione. La CISL auspica una soluzione trasparente per garantire la normale attività bancaria e la serenità dei lavoratori. Ma il sindacato punta l'indice contro la cattiva gestione delle banche nel passato e contro il sistema di vigilanza che non ha saputo svolgere il proprio ruolo. Nel mirino anche la politica regionale, che è addetta sempre della CISL, non si interroga se l'economia abbia bisogno o meno del sostegno di banche virtuose e sensibile alle esigenze del tessuto economico e sociale del territorio, ma chiede che il sistema banche conceda credito senza adottare prima politiche a favore del sistema creditizio. E in questo senso la First CISL si domanda che fine abbia fatto la costituzione dell'osservatorio sul sistema creditizio abruzzese. A preoccupare poi c'è la decisione della B per attuale proprietaria dell'ex Cassa di Risparmio dell'Aquila che ha deciso di chiudere l'ufficio ricostruzione spostando le lavorazioni a Modena e togliendo di fatto alla città e al territorio un riferimento importante. La First CISL conclude la nota ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'abbassamento dei compensi al management di tutte le società quotate in borsa con un rapporto di 1 a 20 tra lo stipendio più basso e quello più alto. Inoltre ha chiesto che le liquidazioni e i premi debbano tenere conto dell'andamento dell'azienda spalmati su diversi anni. Infine ha proposto la separazione tra banca commerciale e banca d'affari individuando le attività loro connesse e all'abolizione dei paradisi fiscali, l'abolizione delle vendite allo scoperto e l'istituzione di una unità sovranazionale di controllo sull'attività bancaria. Bagarre in Consiglio regionale per la terza assenza consecutiva del Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso in apertura dei lavori nel pomeriggio dopo che la seduta convocata per le ore 11 è stata attivata intorno alle ore 17. A sottolineare l'assenza le opposizioni del Movimento 5 Stelle di centrodestra che hanno chiesto di posticipare la seduta a quando c'è D'Alfonso. In Consiglio è riemersa la questione del documento sulla sanità approvato nelle scorse settimane dal Consiglio regionale in cui la maggioranza di centrosinistra è andata sotto in un provvedimento che prevede la revoca del piano sanitario licenziato dalla Giunta regionale. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri ha spiegato che è inaccettabile l'assenza di D'Alfonso visto che l'assemblea abruzzese è sovrana e quindi è la sede dove dire quello che va bene e quello che non va. Ranieri ha annunciato battaglia sull'esame del piano regionale di trasporto pubblico locale sul quale il consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro ha mentito motivando l'aumento del 15% delle tariffe con il taglio dei trasferimenti 2012-2013 invece la decurtazione è del 2015 quindi durante l'amministrazione D'Alfonso. La ripresa c'è e i dati sono confortanti. L'edilizia in provincia di Teramo inverte la tendenza negativa e fa segnare un più 5% nei salari. La Cassedile si attende una spinta dalla ricostruzione e dal masterplan. Segnali incoraggianti dall'edilizia in provincia di Teramo dopo 8 anni di segno meno che hanno significato una perdita della metà della massa dei salari 600 imprese in meno e 3.000 operai senza lavoro il settore costruzioni torna a crescere con un incremento dei salari del 5% un dato interessante se unito alla ripresa delle compravendite del settore immobiliare più 2,1%. La Cassedile auspica che la tendenza si confermi a fine 2016 ma affinché questo avvenga, spiega, bisognerà accelerare su tre punti fondamentali codice delle appalti che necessita di linee guide e decreti attuativi spesa dei fondi per la ricostruzione post-sisma e avvio degli investimenti contenuti nel masterplan. Noi ci auspichiamo e stiamo forzando da diversi anni che si parte a regime perché ci sono diversi centinaia di milioni di ricostruzioni tra privato e pubblico penso che si tocchi 300 milioni tra cratere, fuori cratere e enti pubblici. Proprio la ricostruzione che potrebbe dare una grossa mano una grossa spinta a un settore che è stato veramente distrutto dalla crisi. La nostra provincia è l'unica salvezza questa piccola ripartenza che c'è stata è stata dovuta anche al rinvestimento degli enti pubblici hanno rinvestito sulla sicurezza delle scuole sulla reggimentazione delle acque e anche sull'impianto di depurazione però chiaramente per la nostra provincia la manna dal cielo sarebbe che partisse a pieni voti la ricostruzione. Aspettate qualcosa in più forse anche dal masterplan della regione? Sì, nel documento l'abbiamo citato adesso non solo la tempistica del masterplan ma anche lì ci sono circa 100-120 milioni che dovrebbero arrivare in provincia ce lo spieghiamo che la cosa avvenga. Restiamo a Teramo il consigliere comunale Paola Cardelli torna ad attaccare l'amministrazione Brucchi sulla vicenda del progetto di riqualificazione degli alloggi popolari di Via Longo chiede una nuova perizia tecnica sulle volumetrie un bando pubblico per il progetto definitivo e infine che l'amministrazione receda dal contratto e gestisca in proprio la ristrutturazione attraverso il bando nazionale sulle periferie che scade il 30 di agosto. Dopo un esposto alla procura un'interrogazione all'assessore all'urbanistica Valeria Misticconi e una commissione andata deserta il consigliere comunale di Teramo Paola Cardelli si rivolge alla stampa per mettere ancora una volta in luce la situazione delle case popolari di Via Longo il consigliere chiede a maggioranze d'opposizione di chiarire se favorivere o contrario al progetto della SGR 18 milioni di investimento complessivi progetto che è in ritardo e che inoltre secondo la Cardelli sarebbe viziato da errori nel calcolo delle volumetrie proprio oggetto dell'esposto in procura complessivamente con i suoi 96 alloggi Via Longo rappresenta un terzo del fabbisogno di housing sociale nel capoluogo a Prutino le prime due palazzine al momento sono state sgomberate mettendo in difficoltà anziani e disabili che li abitano a cui sarebbero stati offerti secondo i rappresentanti del centro politico comunista Santa Croce alloggi periferici e senza ascensore in più se non si sblocca il progetto continuo alla Cardelli di cui al momento esiste ufficialmente solo la bozza vincitrice a febbraio del 2015 del concorso di idee le graduatorie per l'edilizia popolare resteranno bloccate aggravando ancora di più la situazione quindi io diffido il comune dalla vallare con un eventuale progetto definitivo che ad oggi ancora non è pronto con una semplice come dire determina dirigenziale questa è la prima questione la seconda questione è che chiesi appunto una nuova perizia di stiva per sapere effettivamente la consistenza degli immobili l'assessore rispose che se ne sarebbe occupata l'SGR ad oggi questa perizia di stiva non è ancora disponibile quindi io chiedo una nuova perizia di stiva degli immobili infine una nota sulla variante Toto e sull'ipotesi di Teleferica Teramo secondo il consigliere comunale di minoranza sono progetti da contrastare senza mezzi termini utilizzando i fondi per mobilità sociale salvaguardia dell'ambiente C'è un nuovo rettore per il Gran Sasso Science Institute si tratta di Eugenio Coccia Sarà Eugenio Coccia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore Gran Sasso Science Institute dell'Aquila che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda università del capoluogo la nomina annunciata da giorni è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il GSA completare gli organi con un direttore generale il consiglio d'amministrazione e il senato accademico Coccia 60 anni già direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 2003 al 2009 ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Science Institute nel triennio sperimentale dell'istituto attivato all'Aquila nel 2013 il neorettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del ministero dell'istruzione dell'università della ricerca Stefania Giannini per il decano del senato accademico e dei docenti del GSI il professore Sergio Petrera l'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia e il coronamento di un percorso in cui il nuovo eletto ha profuso tutte le sue energie Apertura ufficiale oggi al santuario di San Gabriele della Dorata Isola del Gran Sasso della 36esima Tendopoli con il tradizionale benvenuto ai ragazzi del padre provinciale dei passionisti Dario Di Giosia del rettore del santuario padre Natale Panetta e di padre Francesco Cordeschi i tendopolisti dopo il tendfest fantasia si prepareranno ad accogliere la fiaccola della speranza accesa dal cardinale Angelo Sodano è partita domenica da Rocca di Mezzo la fiaccola benedetta da Giovanni Paolo II prima da Benedetto sedicesimo dopo e infine da Papa Francesco verrà portata in staffetta da un gruppo di podisti di Montorio al Vomano la 36esima Tendopoli che si svolgerà da questo pomeriggio fino a sabato 13 agosto entrerà nel vivo da domattina con la relazione prevista per le ore 9.30 misericordia e il nome del nostro Dio di padre Roberto Cecconi professore presso l'istituto teologico di Ancona e andiamo avanti operatori e portatori di interesse uniti per valorizzare la riserva regionale Grotte di Luppa e creare un marchio che tuteli i prodotti dell'area coniugare ambiente turismo e sviluppo socio-economico è quanto si sta provando a realizzare nella riserva naturale regionale Grotte di Luppa che si estende all'interno del comune di Sante Maria in provincia dell'Aquila su una superficie di circa 435 ettari proprio per questo il programma di iniziative estive e gli investimenti messi in cantiere sull'area sono stati studiati in sinergia tra i vari portatori di interessi dell'intero comprensorio di Sante Maria sia per promuovere la conoscenza dell'identità della riserva e la biodiversità che in essa è racchiusa sia per il riconoscimento delle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio per le quali è stato formulato un regolamento che consentirà di avere un marchio che certifichi la qualità dei prodotti realizzati nell'area della riserva è una gestione piuttosto complessa perché parte da un dato di infrastrutturazione materiale e immateriale il cui avvio è avvenuto solo nei mesi precedenti ma che già sta dando risultati infatti la riserva ha diverse centinaia di visitatori che la percorrono e si sta lottando di tutti quelli di tutti quelli e mezzi necessari all'erogazione dei servizi quali quantitativi standardizzati sui massimi livelli abruzzesi e dei segmenti turistici che vengono attratti è un sistema complesso è un sistema che ha bisogno ancora di tempo per essere rodato pienamente ma che si sta sviluppando secondo direttrici che sono quelli della Green Economy partiamo infatti dalla realizzazione di nuovi sentieri la manutenzione di questi sentieri la cartellonistica di servizio il sito della riserva la pagina facebook della riserva degli operatori qualificati che accompagnano corsi per operatori di riserva l'apertura del polo museale la riproduzione della grotta di Luppa all'interno in una delle stanze del polo museale il calendario estivo con una serie di eventi tematici che portano alla sensibilizzazione e alla conoscibilità dell'area per poi giungere anche alla fase convegnistica che ci accompagnerà all'open day la famosa sagra della castagna di Santa Maria con le sue decine di migliaia di visitatori saranno passi tratti dal Shakespeare i protagonisti della notte delle paure di Valle Castellana dal 10 al 14 di agosto teatro nel bosco per celebrare i 400 anni dalla morte dello scrittore inglese scoprire o riscoprire Shakespeare all'interno del bosco di Valle Castellana è l'obiettivo della 22esima edizione della notte delle paure che il piccolo comune del Terramano quest'anno ha deciso di dedicare ai 400 anni dalla morte del grande scrittore commediografo inglese Shakespeare 400 il bosco si muove questo è il titolo scelto per le 4 repliche dello spettacolo dal 10 al 14 agosto titolo che evoca il Macbeth ma che racconta di uno spettacolo fatto di piccole grandi gemme tratte dalle opere più belle di Shakespeare la cosa bella è proprio sentire dei testi meravigliosi delle cose che Shakespeare ci ha regalato dal 600 cogliendo l'occasione dell'anniversario della morte di Shakespeare con 400 anni noi in qualche modo vogliamo riportarlo nella natura perché i suoi testi stanno lì dentro come un gioiello quando dovrete a vederlo accorgerete che è una cosa unica è un testo sacro e in qualche modo allo stesso tempo universale invito tutti a venire e a sceglierci so che ce ne sono tante di manifestazioni in giro ma noi abbiamo qualche particolarità se non altro quella ambientale che è qualcosa di eccezionale appunto è un'occasione per scoprire anche il territorio circondario di Valle Castellana esatto diciamo che il progetto la notte di paure prevede anche quello quindi far conoscere il territorio tra l'altro mi rifaccio anche un po' al film che è stato realizzato con l'edizione 2014 che ho avuto modo di vedere in anteprima e vi assicuro che è uno spot promozionale per il territorio favoloso che insomma mi auguro che poi magari sia usato anche per altri scopi La notte di San Lorenzo degustando i migliori prodotti delle cantine abruzzesi torna al porto turistico di Pescara Calici di Stelle appuntamento che vedrà riuniti 33 produttori con 90 diversi vini tutti orgogliosamente made in Abruzzo Noi dobbiamo collegare sempre di più il nostro vino alle nostre cantine all'identità territoriale e fare in modo che il nostro prodotto sia legato al territorio attraverso queste manifestazioni riusciamo a promuovere questo concetto importante di promozione proprio nel 2015 abbiamo avuto un più 8% di export per quanto riguarda il settore vino risultati assolutamente brillanti il primo bando del piano di sviluppo rurale ha riguardato appunto la promozione 1.200.000 euro a disposizione dei prodotti agricoli regionali in particolar modo del vino il cielo stellato della notte di San Lorenzo la romantica cornice del porto turistico di Pescara le melodie dei grandi classici della tradizione musicale italiana e al centro lui il vino abruzzese questa l'atmosfera scelta dal movimento turismo del vino Abruzzo per l'evento intitolato Calici di Stelle una manifestazione che come movimento turismo vino Abruzzo solitamente cerchiamo di portare le persone nelle nostre cantine ovviamente in estate diventa difficile e questo bellissimo scenario di Pescara della Marina del Porto di Pescara permette di fare sicuramente da attrazione ai turisti che sono presenti sul luogo e far assaggiare non solo i vini del nostro territorio ma anche alcuni prodotti tipici l'iniziativa chiamerà raccolta ben 33 cantine abruzzesi pronte ad accogliere i visitatori con una selezione di oltre 90 vini tutti rigorosamente made in Abruzzo tra bollicine freschi bianchi rosati cerasuolo e il classico Montepulciano d'Abruzzo quest'anno ci sono altre novità quindi oltre a degustazione i vini con tutte le cantine si potrà degustare anche il vino tra cielo e mare grazie a un armatore che ha messo a disposizione un catamarano fiumare Abruzzo quindi si potrà degustare anche il vino facendo una passeggiata in mare proseguiamo con la pagina degli eventi nella patria abruzzese della porchetta a Campli torna la sagra dedicata alla pietanza tipica che affonda le sue radici nei secoli tante le manifestazioni d'arte sport e gastronomia a corollario della sagra andiamo a conoscerle nel servizio arte, storie e gastronomia questo è il mix vincente della sagra più antica d'Abruzzo nata nel 1964 la sagra della porchetta italica di Campli attrae ogni anno più di 100.000 persone che arrivano in provincia di Teramo per gustare un cibo antichissimo che affonda le sue radici nei secoli tanta storia e tanta arte che inizia dall'età del bronzo l'allevamento del maiale come abbiamo visto nei reperti trovati nell'antico borgo di Coccioli poi pensiamo al 1200 1300 quando i maestri porchettai di Campli erano i più bravi rinomati da Abruzzo insieme a quelli di Ripateatina il 22 agosto ultimo giorno della sagra c'è stata questa coincidenza perché avevamo invitato il professor Sgarbi per la città di donanza onoraria ciò per ringraziarlo per quello che ha fatto sinora per Campli perché voglio ricordare che grazie a lui abbiamo avuto un'opera molto importante la Madonna del Latte di Giacomo da Campli all'Expo la sagra è anche un concorso per stabilire qual è la porchetta migliore lo scorso anno vinto dal maestro porchettaio Nicolino Mercuri come tutti gli anni è una giuria di qualità composta la prima sera da editori e giornalisti la seconda sera da esperti enologi e anche da cuochi per cui insomma daremo la possibilità a tanti di poter giudicare la nostra porchetta insieme alla giuria popolare che comunque ha suo peso molto importante tante anche le manifestazioni collaterali per un evento che può essere votato sul sito Italia Live che racchiude le più importanti manifestazioni italiane sì diciamo che come ogni anno è il terzo anno che è l'associazione Monti Gemelli Bike che è un'associazione sportiva dilettantistica di Campli ha organizzato un percorso cicloturistico che parte dal convento dei Cappuccini c'è un'iscrizione alle ore 8 della mattina e poi arriva fa tutto un giro diciamo proprio a ridosso dei Monti Gemelli tornano c'è la possibilità di fare la doccia e poi tornano a Campli in piazza per un party apriamo la pagina dello sport presentate nel pomeriggio al porto turistico di Pescara le nuove maglie da gioco della Pescara Calcio che verranno indossate nel prossimo campionato di Serie A le maglie saranno quella tradizionale bianca azzurra poi giallo fluo blu stile anni 80 e ce n'è una quarta bianco rossa indossata lo scorso 3 agosto in occasione del Memorial Morosini a Vicenza e che si è giocata quella partita anche per celebrare il gemellaggio quarantennale tra le due tifoserie le nuove maglie sono firmate dallo sponsor tecnico della RA sulle maglie del Pescara campeggeranno le insegne degli sponsor OMA società meccanica della famiglia Angelucci e Armata di Mare azienda di abbilamento sportivo milanese alla presentazione odierna erano presenti una settantina di tifosi biancazzurri ed è ovviamente sempre momento di calcio mercato calcio mercato in fermento in casa biancazzurra il servizio il Pescara lavora per riportare in Italia Alberto Aquilani il 32enne centrocampista romano e l'ultima idea è anche qualcosina di più del Delfino la rottura con il suo attuale club i portoghesi dello sport in Lisbona ha convinto i biancazzurri a provare l'affondo per il Principino cresciuto nelle giovanili della Roma alle spalle di Daniele De Rossi ha attraversato dal 2004 in poi il gota del calcio italiano ovviamente prima con i giallorossi della prima era Luciano Spalletti poi l'esperienza oltremanica non proprio fortunata con il Liverpool il ritorno in padre in prestito prima con la Juventus e poi il passaggio in rosso-nero con il Milan la nuova giovinezza con la Fiorentina tre stagioni 81 presenza e 13 reti prima di emigrare di nuovo in Portogallo il Pescara ha avviato i contatti col giocatore e avrebbe già pronta l'offerta di un contratto di due anni per dare quantità ma soprattutto qualità alla mediana perché l'arrivo di Aquilani sarebbe davvero un gran colpo in attesa di vedere come verrà completato il reparto caldi ancora i nomi di Gnocuri e Grassi in difesa invece oltre all'ungherese Guzmich ci sono sviluppi sulla vicenda a Gionber il difensore della Roma è stato escluso dalla lista dei 23 nomi per il preliminare di Champions League contro il Porto l'ulteriore arrivo di Vermalen gli chiude ulteriormente una strada che sembrava comunque già sbarrata il Delfino lo aspetta per rinforzare la retroguardia oggi intanto giù il velo sulle nuove divise per la prossima stagione nella massima serie al Marina di Pescara proprio poche ore prima dell'amichevole contro la Vastese neopromossa in Serie D domani sera invece alle 20 e 30 la presentazione ufficiale della squadra che magari non vendrà ancora la rosa completa l'importante è che lo sia per lo start del campionato e a proposito della rosa del Pescara andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del fantasista libico Ahmad Ben Ali tra i protagonisti della scorsa stagione ed è subito carico per la nuova avventura in Serie A si avvicina all'esordio di campionato mancano ormai pochi giorni si inizia a sentire Ben Ali la pressione della prima con l'Innapoli sicuramente pressione no perché abbiamo preparato tutto il ritiro abbiamo lavorato come pazzi tre settimane di lavoro duro quindi nessun pressione andiamo in campo e divertiamoci come abbiamo fatto l'anno scorso prosegue la marcia di avvicinamento comunque al torneo che Pescara in questo momento c'è e quali sono volendo fare un gioco di percentuali qual è la percentuale di preparazione del Pescara oggi? Noi facciamo una partita alla volta quindi la prima partita c'è il Napoli e poi il Sassuolo fuori e quindi ora cerchiamo di preparare il meglio affrontare una squadra forte come il Napoli poi dopo quello pensiamo una partita una volta ci saranno ancora delle amichevoli poi la gara di Coppa dunque una lenta marcia di avvicinamento verso la partita col Napoli però si parla in queste ore in questi giorni anche di mercato anche voi aspettate ovviamente l'arrivo di qualche giocatore no guarda noi non è una cosa nostra quindi noi facciamo lavorare come hanno fatto sempre la società massima fiducia che qui sono arrivati giocatori importanti arriveranno ancora giocatori importanti quindi noi cerchiamo di fare tutto in campo e la società farà quello che deve fare fuori Benali grande protagonista l'anno scorso in Serie B pronto ad essere protagonista anche il prossimo anno in Serie A sì sono pronto mi sento prontissimo perché ho lavorato tutto l'anno lavorato tutto l'anno con questo ambiente questi questi giocatori il mister il staff i tifosi quindi qui mi sento mi sento pronto non vedo l'ora di sordire in Serie A hai voluto fortemente voler restare qui a Pescara sì sicuramente tutto l'anno ho lavorato tanto come un pazzo per fare quello che potevo fare far salire Pescara in Serie A ho fatto il mio massimo perché volevo fare la Serie A con questi colori era giusto così perché questa società mi ha dato tanta stima tanta fiducia quindi giusto che siamo andati in Serie A insieme e adesso ci spostiamo in Casa Teramo con le parole del Presidente Luciano Campitelli questi sono amichevoli giusto per mettere ossigeno ma non contano niente sono delle amichevoli senza che che uno può fare può pensare che gioca bene o male io credo che devono arrivare le partite vere per poter capire il Teramo quanto vale le partite vere arriveranno la prima arriverà esattamente tra tre settimane la prima di campionato in un girone di ferro in un girone molto complicato che Campitelli vede come lo vedo molto molto difficile perché credo che sia al sud ci sono quattro squadre importanti qui credo che ce ne sono 6-7 e quindi noi che forse l'anno buono eravamo avvantaggiati perché c'era solo l'Asconi e qui dobbiamo cercare di fare il massimo e poi capire alla fine per poter arrivare tra le prime dieci per chiudere se dovesse oggi spendere un euro sull'eventuale permanenza di uno Stefano Amadio che abbiamo visto soprattutto nel corso del primo tempo veramente uomo d'ordine uomo a tutto campo del centrocampo ci punterebbe un euro? Amadio resta a Teramo cioè molte volte leggo cose giustamente che che fanno piacere leggere ma Amadio resta a Teramo è un giocatore del Teramo continuerà con noi allungheremo il contratto quindi noi martedì o mercoledì chiuderemo la trattativa a Amadio quindi noi questi problemi sicuramente non non ce li abbiamo ma di un giocatore per noi importante quindi credo che non ci sono nessun tipo di problemi niente latino quindi assolutamente no escursioni cicloturistiche in mountain bike nello splendido scenario di controguerra il comune vibratiano si inserisce nel connubio trasporto e valorizzazione del patrimonio enologico in mountain bike tra le colline le aziende vitivinicole del territorio la terza edizione di controguerra wine bike anche quest'anno è rimasta fedele alla filosofia di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità e tradizioni l'escursione cicloturistica guidata si inserisce all'interno del programma che ha visto il comune vibratiano aderire all'associazione nazionale città del vino forte della sua vocazione fama internazionale in ambito enologico la nostra terza edizione della controguerra wine bike ne siamo veramente orgogliosi fieri è un percorso scisso in due fasi un primo un po' più facile quindi noi chiamiamo un percorso azzurro un po' più complicato è il percorso rosso il percorso azzurro gli abbiamo dato il nome dell'upisciarille perché c'è una fonte storica e quindi l'abbiamo caratterizzato con quel nome e invece l'altro un po' più scosceso è quello che il versante nord che guarda il tronto quindi dove ci sono dei calanchi l'abbiamo chiamato dei calanchi è un bel percorso soprattutto perché passiamo sul nostro territorio rurale che io oso dire è un meraviglioso territorio rurale quindi fatto di vigne fatto di oliveti ci si diverte e soprattutto tocchiamo tutte le nostre cantine che sono delle vere eccellenze sul nostro territorio quindi sarà sicuramente una giornata bella perché c'è il sole ma anche molto molto interessante insomma il tutto alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio con tutte le sue tradizioni enogastronomiche culturali un bel patrimonio sì assolutamente noi ci freggiamo da essere città del vino città dell'olio dall'anno scorso siamo anche città slow quindi rete internazionale delle città del buon vivere ne siamo veramente orgogliosi di questi titoli che ci abbiamo e li vogliamo difendere era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti